Siamo sempre a Rio de Janeiro, qui è uno spazio per le interviste, come vedete è un bellissimo spazio e siamo con, lo sareste mai immaginato che si venga a parlare di Tax Credit a Rio de Janeiro, al Festival di Rio de Janeiro? Con noi c'è Ludovica Baldan, Tax Credit and Funding Office e c'è anche Roberto Stabile, responsabile ufficio progetti speciali. Cominciamo con Roberto? E allora, venire a Rio per parlare di Tax Credit? Sì, noi siamo venuti a Rio non solo per parlare di Tax Credit ma per presentare tutte le opportunità che il sistema cinema Italia offre alle aziende straniere che vogliono venire a girare da noi, a cercare di attrarre le produzioni brasiliane, ovviamente come Optimum puntiamo allo sviluppo di coproduzioni, però siamo aperti anche ad accettare produzioni totalmente brasiliane che vengono a sfruttare le bellezze del nostro territorio e il nostro sistema di incentivi che è tra i più avanzati dell'Europa. Adesso Ludovica vi darà qualche notizia. Allora Ludovica? Sì, diciamo che il Brasile è uno dei paesi che in questi anni che abbiamo cercato di promuovere questa normativa che è in vigore dal 2009 sostanzialmente, era uno dei paesi nei quali non eravamo mai andati direttamente e dato che nel tempo abbiamo visto che sempre più numerose produzioni internazionali provenienti anche da paesi extra europei sono venuti in Italia, abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci anche al Sud America che comunque è un'area del mondo in cui la produzione cinematografica, Brasile, Argentina, in cui la produzione cinematografica è un'attività sentita, è un'attività che si realizza con interesse e quindi venire in Brasile è stata un'idea per coinvolgere anche questo territorio nella conoscenza di queste agevolazioni che abbiamo qui in Italia in questo momento. Mille grazie e auguri a tutte e due al nostro tax credit e speriamo di fare tanti tanti affari con il Brasile. Grazie a voi. Grazie a voi